Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Little Dumpay Oggi siamo di nuovo su Pokémon Showdown Ma se subisco un cambiamento di stato Il video finisce Ok, sempre meritavo un battle In realtà sto registrando un botto di video di questo genere di un giorno solo Perché vedete lo schermo anche, lo sfondo dei miei amici per la testa è sempre uguale Allora, motivo della challenge, perché l'ho detto nello scorso video E Valcon, ascoltatura, confusione pure Poi addormentamento, paralisi, congelamento e avverenamento Anche lì per avverenamento ovviamente Ok, aspettiamo che vengono avversari e cominciamo Ok, abbiamo due bellissimi Alakazam Mega E di sicuro non ci faranno niente di male, vero? Speriamo Accupersione Ah, c'ho Contra di Godo Double Hit Doppio Colpo, ok? Di tipo Drago Ok, credo di sì Let's Go Ah, ha una mossa con le 8 Savage Speed Out Contra Godo, l'altra cosa l'ho dato Ha reso l'info, ok Godo è il fatto che ha 0,5 Ah, Godo ancora di più Con Contra di Stor Fresco Ok, questa volta non ce ne può fregare di meno di queste cose qua C'è i cambiamenti di statistica, sì Questo è il cambiamento di stato invece Condizione di stato, ragazzi, scusate per la intro per il tuo cambiamento di unità e condizione Non mi puoi penalizzare, bello, meno male Questo a posto Let's Go Infestation Infestiamolo Potremmo anche farlo con i dot la prossima volta Non lo so Non mi verrà in mente Tra 5 minuti Tanto l'ha fatto Forfait Oppure io l'ho ammazzato con Edmash Edmash? 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 Ok, il payback di vincere ci arriviamo fatta Devo pensarci tra 5 minuti se farlo o no Perché sto registrando un botto di video, come vi ho già detto Solo sui Pokémon Showdown Il video finisce Almeno c'è un po' di video da parte E posso scaricare anche due video al giorno Due video a settimana Due video al giorno magari Per voi almeno Ok, aspettiamo il prossimo avversario Ok, siamo tornati con Daniele Falzi Ma se è italiano E' italian No, noi lo scriviamo Facciamo i molesti Ok, let's go Metronomo Shellside Arm Ok, l'avvenamento però tocca a noi Non tocca a loro Bloom Doom Non osserva Z Anche noi usiamo la Z Utilizziamo Super Sonic Sonic Super Shura Shasha Super Sonic 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 In inglese Sempre Perfetto Anche se va da linguistico GG Allora, Daniele Falzi Toxic Spikes Ok, dato non c'è un effetto Posso dire Perché non cambiamo Are you Italian? Yeah Non sono 2007 Mi fai sconcentrare Sulla cosa che devo fare Cioè i cambiamenti di stato Ok Explosion Perfetto Fairy Wind Sto a registrare Basta Lui trovo Mi distrago Per quando mi distrago Non sto a giocare bene Anche se lo sto andando Schiacciare ritrovo Pain Split Molto buono Wish Meno buono Ok Stance Up e ok del cancello commentare il momento extra sensori tente mio finti mio onliccio ok o twitch oddio no una cosa brutta quello niente ancora cose di stato ci sta chiedendo le robe girgind ok ok grazie mille daniele faldi se si stai guardando in questo momento te lo dirò naturalmente dopo il video dopo il coso meno male non mi avrei nato il nome del canale ma noi ci vediamo dopo al prossimo ok siamo conto catlina la tizia di pokemon bianco e nero e non abbiamo ancora modifiche di stato che sfiga ma che fortuna in realtà meno viene un pochettino più lungo non so perfettamente che minuto siamo di video perché non ce l'ho sotto mano ma spero che sono almeno cinque minuti ok primi se lo vedono ancora di tipo volante sono di tipo erba un altro colpo no mango bugax inferno se mi bruciava finiva il video facciamo durare il video anche sette minuti ci sta ci sta ci sta ok bite sperificare c'è tenti mio mica c'è la weakness policy acqua ring è una sfiga quella bella mossa fuoco magari la mossa ghiaccio meno male che è in parte a quasi l'uovo di gara di gara di gara di gara oggi non so parlare ok distorsi al min let's go thunderbolt esiste mio 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 swift sarebbe tipo libra botta circol true circol true blizzard non mi congelare te ne prego ok c'è proprio una sfiga se mi congelare una sfortuna tale che può pure un po' scibla volete i video con la webcam che semmai metto qua la webcam da qualche parte così facciamo con i vecchi tempi e me lo direte poi quando uscirà questo video tipo tra due mesi vedrò semmai oggi smetto di registrare i video di seguito tre vanno più che bene almeno posso registrarne posso pubblicarne due e sto a posto power jam guard split scale shot più attacchi sono più attacchi mi riusci la difesa ma mi aumenta la velocità cosa che per snorlax potrebbe essere buono sì ma noi stiamo perdendo raga purtroppo devo lasciare anche le cose che perdo sì devo lasciare anche le partite in cui perdo perché finchè non fanno qualcosa di stato un'ascoltatura non posso vedere il video ok oh mio dio pensavo fosse una roba tipo swagger automai sacco cazzo diventi velocissimo però ma che prezzo uturn prossimo prossimo match per favore fammi finire sto video ok ragazzi siamo 8 minuti di video all'incirca per voi saranno un po' meno ma una di poco 30 secondi neanche e 8 minuti molto buono siamo un video normale quasi cut stranamente non ho cambiamenti di stato modifiche di stato modifiche di modifiche non cambiamenti la stessa cosa no cioè simile sì però non è il modo giusto di dire guardate mentre attacco che sei un tizio monaco buddista senza offesa buddisti sono bravissimi ah oddio pensavo che mi scottasse della cosa che ho detto gigavolt avok vk gigavolt avok vivai buddisti che vi voglio tanto bene tag hashtag vivai buddisti qua sotto nel video non potete vedere cosa sto facendo perché non c'è la webcam prossimo video webcam ve lo prometto di pokemon shutdown totalmente di minecraft non lo farò mai ma sto ancora facendo minecraft in questo periodo boh chi lo sa scopriamo solo l'evento si raise of leaf fire fang brucialo brucialo non lo brucia sight strike 100% di potenza ok germansy che è molto buono giusto sight perchè attacca lui perchè attacca lui ok extreme speed sposa di tipo 20 secondi da quando ho tagliato prima quando ho fatto l'ultima mossa ok germansy fa una cosa molto bella cioè abbiamo detto quante cose speciali gear up gear up miluk che non è inutile praticamente oltraggio oltraggio anche inutile ma scialla ok oltraggio in realtà no non è inutile cioè è un buon attacco comunque però poterà avere un attacco migliore for fate raga non finiremo mai sto video mai prossimo match ancora dovremo anche mezz'ora potremo anche durare mezz'ora tranquillamente ok ragazzi ho tolto magic bounce su snorlax invece download solo per il motivo che insieme a che magic bounce fa rimbalzare la roba gli effetti di stato non potevo mai essere abbenato e quelle roba lì ok a posto double kick subito a posto proprio ok let's go metronomo ok una bella mossa acciaio ma noi non dobbiamo mazzarli noi dobbiamo avere una modifica di stato perfetto perfetto finchia snorlax oggi fa il culo a tutti intanto è giganotos sonus smalt ok light screen no mi sembra un toxic magari eh kit del top un bel toxic una bella ipnosis una cosa del genere un pochettine piccadina ipnos ok mentre nella difesa pure ci c'è una brascialla assurvance mind and rise ok buono in realtà sarebbe anche molto buono se fosse una città se una città una challenge normale è un good challenge purtroppo no ok finirò che non serve mai niente mi sicuro adesso lo ucciderò con due colpi e dovremmo fare un'altra battaglia no no si ricopre tutta la vita ok gg ok ciao